Don Carlo Ballè, curato parroco di Ecuyi, ospitava in casa propria giovani desiderosi di intraprendere la strada per il sacerdozio. Secondo me il futuro è in questo. I seminari sono ormai alcove di ideologia arcobaleno. Quindi il futuro dei prossimi sacerdoti sta nello stare in canonica o accanto a preti santi o preti buoni, preti di Dio e si formano lì. Questo è quello che io personalmente penso.